Domenica 3 dicembre, a distanza di 9 anni, la locale confraternita, in collaborazione con la SD Podistica Ionia Giarre e con il patrocinio del Comune di Santa Venerina, ripropone ai corridori un importante appuntamento, il terzo trofeo podistico San Sebastiano Città di Santa Venerina, gara sotto legida della AXI Sicilia, settore atletica leggera, con approvazione della FIDAL regionale. Potranno quindi partecipare tutti i tesserati FIDAL AXI ed EPS convenzionati. Il percorso di 790 metri rispetto all'edizione 2007-2008 presenta delle variazioni, ovvero sia si restringe di circa 200 metri rimanendo nell'ambito di pertinenza della chiesa matrice di Santa Venera, consentendo quindi agli spettatori una veduta più ampia, con il giro completo di Piazza Roma e permettendo agli atleti una competizione ancora più agguerrita. Giuseppe Calì, socio e dirigente della confraternita di San Sebastiano, ha lavorato intensamente per coordinare tutte le componenti, al fine di regalare agli atleti e al pubblico una bella manifestazione, coinvolgendo anche diversi operatori economici locali. Saleriano sul podio i primi tre atleti maschili e le prime tre atleti femminili arrivate al traguardo senza distinzione di categoria, e tutti i primi tre atleti maschili e femminili delle rispettive gare di categoria di appartenenza a Seniores. Dopo qualche anno di essenza avevamo voglia di riproporre questo appuntamento sportivo che aveva lasciato in tutti noi un ottimo ricordo, ci dice Giuseppe Calì. Così ci stiamo impegnando per accogliere al meglio i corridori che verranno e speriamo siano in tanti affinché possano competere e divertirsi apprezzando le bellezze della nostra Santa Venerina.